Questo arrivo lo sento veramente tanto, è un arrivo che sento particolarmente, quest'anno era ancora più difficile perché rispetto alle scorse edizioni che ho disputato e vinto in questo arrivo, l'inizio tappa era più duro con tre salite da scavalcare, con la lotta della classifica generale in corso ancora hanno provato ad attaccare il leader della classifica e quindi logicamente le salite le abbiamo fatte a tutta, però i miei ragazzi hanno fatto un grandissimo lavoro per tenermi in gruppo e poi ho potuto finalizzare al meglio con l'arrivo, con la mia volata nel finale quindi è bellissimo partire bene e finire bene da un morale molto più alto e vincere l'ultima tappa è sempre speciale perché vai in aereo con la consapevolezza che hai fatto il tuo e l'hai fatto anche bene